Marco Lanzi, candidato per il centro-destra, partiamo proprio dal principio. Come nasce questo percorso e qual è questo percorso che ha portato a questa candidatura? Io nel corso di questi anni, sono qua a Pesaro dal 1995 e sono segretario del SIULP dal 1998. Nel corso di questi anni più volte mi è stato proposto di scendere in campo, da un punto di vista politico. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto perché io amo e ho amato veramente il mio lavoro. E quindi non ho mai voluto generare contraddizioni, conflitti, perché chiaramente chi rappresenta lo Stato assolutamente deve essere imparziale e non può fare politica, assolutamente. Però io dal 1 marzo 2023 sono in pensione, quindi non ho più di questo tipo di vincoli. Però è una candidatura che non ho ricercato io, nel senso che mi è stata proposta. Proposta da tanti amici del centro-destra, amministratori e esponenti politici comunque preparati, professionali che comunque mi hanno chiesto di scendere in campo, da tanti cittadini che me l'hanno chiesto. Non l'ho ricercato io perché io comunque non ho nessuna ambizione politica, non sono l'espressione di nessun partito politico. E formerò una lista civica di persone senza espressione politica, perché questo è il mio obiettivo. E cercherò anche di formare una lista civica di soli giovani che non sono espressione politica, ma ragazzi che hanno voglia di scendere in campo. Lo faccio perché voglio migliorare la vita della nostra città, fare qualcosa di più, qualcosa di più. La nostra è una bellissima città, io sono di Milano ma sono qua, ripeto, dal 95 e veramente qui ho messo su famiglia, ho conosciuto mia moglie, ho due splendidi figli e amo questa città, le voglio veramente bene. Sicuramente ci sarà una conferenza stampa insieme a tutti gli esponenti del centro-destra, e quindi di tutti quei partiti che accompagneranno questo mio percorso insieme alle mie liste civiche. Questo è fondamentale, sarà il prossimo passo. E poi io ho già degli appuntamenti, io comincerò a girare le circoscrizioni, a parlare con le persone, ad ascoltarle. Questo è fondamentale. Mi sto già attivando in questo senso. Per quanto riguarda i partiti, perché si attendeva l'avallo, l'annuncio da parte dei vari partiti di centro-destra, lì invece l'accordo dove è stato trovato? L'accordo, chiaramente, io credo che i partiti, credo, sono sicuro, sono certo, i partiti del centro-destra hanno trovato in me una figura del mondo civico, una persona comunque trasversale, che non ha nessuna, che non è espressione di nessun partito politico, io non sono iscritto a nessun partito politico, però è una persona che ha dei valori, e per me i valori fondamentali, noi li abbiamo trovati sui valori che devono ispirare, non solo la mia campagna elettorale, ma che dovranno ispirare anche la mia attività di sindaco, trasparenza, legalità, rispetto delle regole, condivisione e concertazione. Invece per quanto riguarda l'avversario, c'è questa sfida a tre nel centro-sinistra, tra Biancani, Vimini e Mengucci, chi si aspetta la spunterà e chi preferirebbe affrontare? Mi sono dato un ordine a me stesso, in campagna elettorale assolutamente non criticare l'avversario, io voglio che i cittadini non guardino questo, io non sono un politico, non sono un politico, io sono un uomo dello Stato, non sono abituato a criticare l'avversario, sono abituato a organizzare, a costruire, a proporre, io voglio soltanto che la gente e i cittadini validano Marco Lanzi come candidato sindaco per quello che propone, per quello che vuol fare, per i suoi progetti e non perché comunque litiga quel Biancani di turno, con la sala di turno o con il Vimini di turno, assolutamente, per me è indifferente, giusto che loro portino avanti, scelgano chi sarà il loro candidato, porteranno avanti i loro progetti, le loro proposte per la città, io porterò avanti le mie proposte, io spero veramente che si possa avere un dialogo costruttivo, che non si cada chiaramente in nessuna conflittualità, quindi per me è indifferente, assolutamente.